questo qua secondo me è il fratello di quella lì che sta in fondo che aspetta vero o il fratello la sorella e questa che è meno e meno paurosa questa è meno paurosa ma forse è lei che ha fatto il giro sono come dei gemelli che poi ti vai a confondere ti vai a confondere che c'è amore mio bella la chiamo color perché è colorata questa è bella sta gattina vero amore che si belliccia mangia mangia amore cioè quello quel gatto di prima quello nero che ha preferito aspettare di mangiare nonostante ci fossero quattro piatti perché secondo me i gatti vanno lo stesso a curiosare altri altri piatti lo stesso pure se hanno già mangiato il loro piatto e nonostante il mangiare non è ancora finito magari ci può essere altri tipi di pietanze pensano che possono piacergli allora ha preferito aspettare lo stesso perché magari il gatto nero gatto bianco e nero andava dal gatto nero per dire anche questo è il mio no e magari fanno 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 un poco gli ingordi diciamo ehi che amore che bellino il nino nino e piccolino migno 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 ciao a 17 e 29 8 febbraio 2024 che bello 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 che si bella chissà forse non ha mangiato il giorno è vero allora 17 e 29 8 febbraio 2024 24